cari amici buongiorno bentornati al caffè biblico sono finite le olimpiadi abbiamo riportato 40 medaglie a casa noi italiani ma ancora si parla di olimpiadi vuoi perché ci sono in corso a parigi le para olimpiadi vuoi perché storie come quella di manche leaf la pugile con livelli di testosterone alti di ormoni maschili alti continuano a discutere di questo ma io voglio parlarvi invece di un articolo che ha scritto novella calligaris campionessa olimpica di monaco del 72 una ragazza di allora che combatteva con avversarie completamente diverse da lei lei era 1 e 67 piccolina era pesava 48 chili e combatteva con le valchirie le chiamavano così le valchirie della germania dell'est che erano donne costruite letteralmente in laboratorio persone che venivano dopate donne che venivano costrette non erano loro a doparsi per ottenere medaglie ma erano costrette erano vittime del sistema che c'era in germania estera germania comunista di quegli anni per riuscire ad ottenere delle medaglie pur di avere delle medaglie erano disposti a rovinare queste ragazze queste ragazze parlavano tedesco e novella calligaris nel suo articolo racconta di aver ricevuto le confidenze di queste ragazze e alcune di queste raccontavano come per passare i test di bilanciamento degli ormoni maschili e femminili venivano addirittura messe incinte e fatte abortire due mesi prima delle olimpiadi questo perché perché così i livelli erano corretti e perché la donna dopo due mesi dal parto o dall'aborto pare che sia al suo massimo dell'efficienza fisica venivano dopate ripeto e in più lei racconta anche fra le tante confidenze che si facevano la barba prima delle gare ma questi sono aspetti secondari ora tutto questo per cosa per guadagnare una medaglia per portare a casa una medaglia olimpica voglio leggervi alcune frasi dell'apostolo paolo che dice non sapete che coloro i quali corrono nello stadio lui conosceva bene le olimpiadi greche corrono tutti ma uno solo ottiene il premio correte in modo da riportarlo chiunque fa l'atleta è temperato disciplinato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile ma noi per una incorruttibile ecco l'apostolo paolo prende l'esempio degli atleti che si disciplinano si allenano come novella caligaris correttamente seguendo le regole per arrivare a una medaglia per arrivare a una corona dice noi diamoci da fare per una corona incorruttibile cioè eterna diamoci da fare per qualcosa che è molto più di una medaglia olimpica e questo è il messaggio di oggi per te caro amico per me per ognuno di noi Dio ti benedica